Salve a tutti e a tutte. In questo secondo video tutorial vedremo come creare un corso o classe con Google Classroom, l'aula virtuale disponibile nella G Suite for Education. Per creare una classe o corso con Google Classroom devo innanzitutto accedere alla G Suite for Education con il mio account istituzionale, non con quello personale. Quindi la prima operazione da fare è entrare nella G Suite con lo username scolastico o istituzionale e con la password creata dopo il primo accesso. Dopo essermi accreditato entrerò nella Gmail istituzionale. Qui selezionerò il simbolo a nove pallini che si trova vicino all'icona identificativa dell'account. Dalla finestra scorrevole che mi presenta tutti i servizi e le applicazioni disponibili nella G Suite for Education individuerò Google Classroom e cliccherò prima sopra l'icona dell'applicazione, poi su continua. Sceglierò di usare Classroom come insegnante. Posizionerò quindi il cursore in alto a destra in corrispondenza della freccia e selezionerò prima l'opzione aggiungi, raffigurata dal simbolo più, poi crea corso. Nella tabella crea corso inserirò le informazioni essenziali che riguardano la disciplina a cui intendo dedicare il corso e la classe. Nello spazio riservato al nome del corso scriverò il nome della disciplina mentre nella parte che riguarda la sezione aggiungerò il nome della classe. Per completare l'operazione cliccherò sul tasto Creazione. Dopo aver letto l'avviso di Google sarò finalmente pronto per invitare gli studenti a partecipare al corso che ho appena creato.